Sarebbero bastati 10 centimetri e l'incidente stradale di questa mattina in via Roma si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. Alle 11.30 lungo via Roma una donna di 74 anni in sela alla sua bicicletta stava dirigendosi in direzione monte quando improvvisamente davanti a lei si è spalancata la portiera, lato guidatore, di un furgone Fiat Ducato parcheggiato sulla ciclabile davanti al bar nazionale condotto da un fanese di 44 anni. Inevitabile l'urto del manubrio della bicicletta con la parte interna della portiera che fa perdere l'equilibrio alla donna e la fa cadere di schianto sull'asfalto. In quel preciso istante arriva a velocità moderata fortunatamente un'auto Nissan condotta da un uomo di 70 anni residente a Fano. La donna e la sua bicicletta urtano la parte anteriore e parte del paraurti dell'auto pochi centimetri prima e la 74enne sarebbe finita sotto le ruote dell'auto. Invece nella caduta ha riportato solo una ferita all'acero contusa all'avambraccio sinistro ed alcune escoriazioni per le quali è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce di Fano per accertamenti. Sul posto due pattuglie della polizia locale di Fano, una per i rilievi di legge e l'altra per regolare la viabilità particolarmente intensa data l'ora del giorno. Grazie. Grazie.